raga buonasera ci sono i gm a nozville ogni tanto si fanno vedere e drago sta facendo un ride non può raggiungerci stai nel kirolas quel ride bellissimo che dura tre quarti d'ora drago mi sa che tra un po ti perdi ti perdi caligo o caligo 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 ecco la perché siamo nella mappa del del cubi finalmente ci siamo porta del lamento aspetta che mi devo mettere a posto le skill no raga cioè aspettatemi non ti muovi ti fa una skill al boss è finito ok c'è gente dietro che sta skillando i mob così a caso io ad avanti perché se no mi ci lasciano dietro poi io che mi perdo ovunque no vabbè già il castra è difficile perdersi eh però sono riuscito a perdermi anche in un castra ragazzi quindi ce la voglio dire ma perché ridono mi sentono ogni volta che dico una stranzata ridono magari ti sento oh my gosh dai 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 mi raccomando eh drago mi devi correggere d'ora in poi perché non si dice login si dice login mi raccomando drago si dice login occhio eh come pronunciamo le cose non si dice bk si dice bk ok ho finito il raid hai finito il raid sei sicuro che si dice raid ma non si dice raid occhio c'è vabbè occhio a come pronunci le cose qui eh occhio occhio si dice raid non raid ignorante vabbè raid io lo chiamo raid ma sì ma cioè voglio dire la popolazione lo chiama raid cioè non lo so ma sì ma allora voglio farti capire cioè noi siamo quella generazione di giocatori di Nostale che dicevano sale chiamavano sale e la scatolina per eliminare i pet nella mini quando invece davanti c'è scritto sale che vuol dire insomma vendita no? quindi tu vendevi tra virgolette il pet che avevi nella mini e non lo volevi più beh noi lo chiamavamo il sale vado a comprare il sale come se andassi all'alimentare qua sotto vado a comprare un po' di sale un po' di latte e mi vengono a sgridare perchè ho detto all'oggin avevo bell'istate male voi no era carinissimo cioè ma io ti parlo di dieci anni fa drago cioè dieci anni fa non sapevano manco cos'era l'inglese voglio dire cioè noi pronunciavamo tutto quello come era scritto era detto non è che stavamo lì a farci due domande il sale sale anche perché poi sale ce l'ha il significato no? gli buttavi un po' di sale nel pet e il pet si sceglieva si sceglieva oh mio dio adesso ci saranno i gm che ok bravi gm che sono andati ad aprire la porta c'è anche qualcuno che muore nel ride con i gm occhio eh ragazzi occhio oltre alla pronuncia occhio alle morti che poi verrete lapidati in piazza ah dovrei andar lì forse ma riesci l'hai trovata la strada o ti sei persa? no 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 sono dentro ci sanno i miei pet guarda Ashley quanto è bella mi 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 scrive mi 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 no non ti su sedere ho sculato su mamma glielo dico no vabbè saluta il tubo Cosa ha scritto? Ce lo tubo No vabbè Che hai fatto? Drago hai visto che dura tre ore sto ride? No veramente Ho sculato il tatuaggio che volevi Allora oggi è già la seconda volta che sculi Anzi la terza, la quarta, la quinta Smettila perché sennò veramente prendo e sloggo Wow Cioè io ragazzi ho fatto un tatuaggio oggi Che mi è uscito uno schifo Mi hanno detto che è uno dei tatuaggi più schifosi Che poteva uscirmi Mi è uscito Lui invece gli è uscito il tatuaggio praticamente che volevo io Cioè quello con l'aumento della difesa Drago Delettati Ce l'ho più tre e mi aumenta la difesa del 13% Sono più tre Però dura otto secondi e si ricarica in 180 Non ho parole Quindi è da usare in certe situazioni Non ho parole Non ho parole Ditegli qualcosa voi per favore Allora ha da poco sculato tipo Un pugnale Dal Fernon Che ha tipo globali 11 Energia Proprietà Calodifese Calores Danno Percentuale al danno Migliorato Danno migliorato Sì no vabbè fai schifo Drago basta Non mi parlare più per favore Ok sto muto da adesso in poi Bravo Ma l'ho definito sto castro che mi sa che sta durando più del chilo Ma abbiamo finito Ma quanti sono di cadono Chirola 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 Oppure Chirola Non mi ricordo Vabbè quello che è Non voglio entrambi più 5 Occhio alla pronuncia Drago Occhio alla pronuncia Chirola Chirola Va bene io lo chiamo così C'è bel serpente Ma dove li vedi Oh Ma quella è una salvina Ma che carina Dov'è Oh Dio No Che cosa è questo Oh mio Dio Oh porca coccola Con una probabilità del 10% Veleno mentale Veleno rinforzato Veleno mortale Oh mio Dio Cioè ma che roba è Sto ragnetto Ma che roba Va No lo voglio io Sto ragnetto Ashley come trovi il canale YouTube di Lovosa È una mia faz Assordante Assordante Tec ma cosa L'invidia Fai il 99 incubi Cosa ho detto No Vabbè Non cogli Non cogli l'arte L'arte lo vosa Però dai Guardano i video Anche GM Sono contenta Perché è entrata me Preferisco non coglierla Allora Almeno di un po' Mi rimango più tanti Tec Sei antipatico Sappilo È meglio Ashlyn Che non si pronuncia In merito Meglio Che palle Ci ha messo la panna Nella carbonara Wow Bella questa Questa è il remix Che vanno Una bella parodia Sì Di Murri Dove si pia carne Di orso gufo Uccidendo gli orsi gufi Wow Wow Non fa una piega No 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 What Cos'è che dice? Sì Oddio Oddio Non cambia